Questa settimana dedicata ai saperi e alla trasmissione delle conoscenze credo sia particolarmente importante per capire che cosa può essere il nostro futuro ma soprattutto capire quali possono essere gli strumenti per costruirlo cioè noi non dobbiamo pensare al futuro come qualcosa che succede, che ci capiterà, che ci cadrà addosso ma dobbiamo dotarci degli strumenti e sono soprattutto strumenti conoscitivi perché la nostra è una economia che sarà sempre più economia della conoscenza per permetterci appunto di costruire il nostro futuro cioè di mettere nelle mani dei giovani ma anche di tutta la società adulta quegli strumenti che purtroppo in Italia ancora mancano perché per troppo tempo e noi l'abbiamo detto sulle 24 ore della domenica con il nostro manifesto per la cultura, per troppo tempo la cultura, i saperi, la formazione, l'attenzione a questo nostro grande patrimonio italiano che è un patrimonio materiale ma che deve essere anche un patrimonio di conoscenze è stato trascurato, trascurato da chi? Soprattutto dai decisori pubblici. Allora dobbiamo fare in modo che tutti coloro che pensano che il futuro dipenda da quanto noi sapremo investire in conoscenza, in capitale umano, in qualche modo si alleno e diventino quasi un gruppo di pressione perché altrimenti l'Italia è destinata, e questo non è un futuro assolutamente che noi lo spieghiamo, è destinata a continuare nel declino che ormai dura da parecchi anni. Se dovessimo dire con una parola, con un gruppo di parole, io direi che la parola chiave di questo futuro che noi dobbiamo immaginare, che noi dobbiamo avere nelle nostre mani è proprio ripensare la cittadinanza, cioè una cittadinanza attiva che abbia strumenti soprattutto di argomentazione, di saperi critici, di capacità di manovrare e di orientarsi dentro i saperi necessari al nostro tempo e purtroppo l'Italia anche qui c'è una nota dolente perché tra i paesi Ocse è quella che arriva ultima sia per quanto riguarda la literacy, sia per quanto riguarda, ed è penultima, per quanto riguarda la numeracy, cioè in pratica siamo un paese potenzialmente il più culturale del mondo, ma quello che ha investito forse meno in cultura e che quindi ora ne paga lo scotto. Quindi la ricetta per ripartire non è tanto complicata. Investire in conoscenza, fare in modo che ci siano sempre più persone intelligenti, diciamo, secondo una definizione di intelligenza che non è vaga, è una cosa molto precisa che ormai molti studiosi, molti psicologi cognitivi ci hanno definito con grande chiarezza, cioè l'intelligenza che serve a capire, a imparare dai nostri errori, a capire quali sono le esperienze che funzionano, quelle che non funzionano, quindi a essere onesti, per dirla con uno degli ospiti di questa settimana, per esempio il professor Beck, appunto essere onesti intellettualmente e quindi non illuderci più di essere in un mondo che migliorerà così per conto suo. Se migliorerà sarà solo merito nostro.